I Celti sono un antico popolo che ha avuto un ruolo significativo nella storia dell'Europa. Originari dell'Europa centrale, i Celti si sono diffusi in gran parte del continente durante l'Età del Ferro, tra l'Ottocento anno corrente e il Quattrocento anno corrente. La loro cultura e la loro influenza si sono estese dalla Britannia all'Irlanda, dalla Francia alla Spagna, dall'Italia alla Turchia. I Celti erano un popolo guerriero, noto per la loro abilità nella battaglia e per la loro ferocia. Erano divisi in tribù, ognuna con il proprio capo e il proprio territorio. Le tribù Celtiche erano organizzate in una società stratificata, con una classe guerriera dominante e una classe contadina sottostante. Erano anche abili artigiani, noti per la loro lavorazione del ferro e per la produzione di oggetti in metallo, come armi e gioielli. La religione celtica era basata sulla natura e sul culto degli antenati. I Celti credevano in una serie di divinità e spiriti, e praticavano rituali e sacrifici per placare gli dèi e ottenere il loro favore. I druidi, i sacerdoti celtici, avevano un ruolo importante nella società, fungendo da mediatori tra gli dèi e gli uomini. I Celti erano anche noti per la loro arte e la loro musica. Le loro opere d'arte includevano sculture, gioielli e decorazioni intricate. La musica celtica era caratterizzata da strumenti come la lira e la cornamusa, e era spesso accompagnata da canti e balli. Durante il periodo romano, i Celti furono conquistati e assimilati nell'impero romano. Tuttavia, la loro influenza culturale sopravvisse, specialmente nelle regioni periferiche dell'Europa. In seguito, con l'arrivo dei popoli germanici e l'espansione del cristianesimo, la cultura celtica subì ulteriori cambiamenti e adattamenti. Oggi, l'eredità dei Celti è ancora evidente in molte parti d'Europa. La lingua gaelica, parlata in Irlanda e in Scozia, è una delle lingue celtiche sopravvissute. Inoltre, molte tradizioni e festività celtiche, come Halloween e il solstizio d'estate, sono ancora celebrate in diverse parti del mondo. In conclusione, i Celti sono un popolo antico che ha lasciato un'impronta duratura sulla storia e sulla cultura europea. La loro abilità guerriera, la loro arte e la loro spiritualità hanno contribuito a plasmare l'Europa come la conosciamo oggi. Nonostante siano passati molti secoli dalla loro esistenza, l'influenza dei Celti continua a vivere attraverso le tradizioni e le celebrazioni che ancora oggi vengono mantenute.